Sembra veramente impossibile che un senzatezzo che vent'anni fa rubò praticamente una merendina per sfamarsi oggi sia stato condannato al carcere anche se si tratta di due mesi. Ennesima stortura della nostra giustizia. 2.405.275, una cifra enorme, una montagna che la giustizia italiana piano piano sta tentando di scalare. È il numero dei processi penali pendenti nel nostro paese. Se ci chiediamo perché sono così tanti, la risposta è che in questo mucchio selvaggio di fascicoli ci sono anche storie come questa. Novembre 2006 un clochard tenta un furto in un supermercato a Firenze, viene sorpreso e denunciato a piede libero. Poca roba, 5 euro e 20 centesimi il valore della merce, ma il protagonista non ha un avvocato. La giustizia procede inesorabile, un meccanismo infernale, passano gli anni, passano i gradi di giudizio. Primo, secondo, sentenza e condanna definitiva. Due mesi di reclusione. Si potrebbe chiedere una misura alternativa al carcere, ma nessuno lo fa. Dura Lex, sed Lex, mercoledì. I carabinieri rintracciano il nostro a Bologna e lo portano dentro. Sono passati 17 anni dal colpo al supermercato. Questa storia sembra incredibile, ma non lo è e non è per niente eccezionale. Il carcere è pieno di detenuti che hanno da scontare pene di pochi mesi, a volte di poche settimane. Si era provato a proporre che queste pene non fossero scontate in carcere. Fu bollata come svuota carcere questa legge. Ma noi dobbiamo svuotare il carcere da queste assurdità. Assurdità che pongono anche un'altra questione su quanti giudici, PM, carabinieri, poliziotti si sono affaccendati per inseguire il ladro di merendine. Cioè a dire quanto è costato tutto questo al sistema giustizia.